Uomini e donne, chi è Diego Tavanni? Età, curiosità, Instagram. Conosciamo meglio uno dei protagonisti del trono over del dating show di Canale 5. Sarà con lui che Ida riuscirà finalmente a trovare la tanto agognata felicità? Scopriamo qualcosa in più su Diego. Il 43enne romano che si è conquistato la simpatia di tutti con la sua spontaneità. Uomini e donne, ecco chi è Diego Tavanni. Diego Tavanni nasce a Roma, nel 1978, ha quindi 43 anni. Studia ragioneria, e, dopo aver preso il diploma, inizia subito a lavorare nel bar tabaccheria di famiglia. Che, stando a quanto si legge sul web, si trova nel quartiere San Giovanni della Capitale. Sin dal primo giorno, Noon passa inosservato, da un lato perché viene notato da Ida Platano, e dall'altro perché sa conquistare la simpatia dei più. Gianni Sperti compreso, con la sua veracità. Quest'anno, Diego diventa uno dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne. L'obiettivo di Tavanni è quello di trovare una donna differente rispetto a quelle con le quali ha avuto a che fare fino ad ora. Tuttavia, ci tiene a sottolineare che se si ritrova ancora da solo è in buona parte per colpa sua, dato che Noon è mai stato bravo ad ascoltare i consigli, e non ripetere sempre gli stessi errori. Nel corso di questa esperienza televisiva, Diego è uscito con Vittoria, anche se per poco tempo, ad un certo punto, infatti, la dama ha messo gli occhi su Graziano. E a lui non piace l'idea che la persona che sta frequentando si concentri contemporaneamente su più uomini. Una volta che Ida ha chiuso con Marcello, Tavanni le ha chiesto di uscire, i due hanno fatto una passeggiata nei pressi di Castel Gandolfo. E, alla fine della serata, si sono baciati e è stato sposato, e dal matrimonio è nato un unico figlio, il quale si chiama Leonardo, il nome dell'ex moglie, invece, non è noto. Tuttavia, come si legge dalla sua bio su Instagram, gli piacciono pure le automobili e le barche. Diego è appassionato di calcio, ed è un grande tifoso della Lazio. Oggi, il suo profilo Instagram conta 1560 follower, ma, senza ombra di dubbio, il numero è destinato a crescere. Tavanni ha un cane a cui è molto legato.